Ciao a tutti, se voi pensavate minimamente che fosse finita qui, eh no, perché ho detto che oggi ci divertiamo. Oggi è solo svago, il divertimento è perculaggine, perculiamo, ok? Andiamo a vedere i prossimi contenuti però, perché, eh, no. Allora, andiamo? Beh, però è un po' di pubblicità. 1-1-2-0, Gorsolini, in live reaction. Natalia è finito da un pezzo, vai. Bravi, si gioca così infatti, sempre a partire dal basso. Segna, 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 X, e lui segna la tabellina. Eh sì, l'avete preso. Ma lo fa culo, ma lo fa culo, culo di cammino i defensori, se lo siano, se lo siano cammino i defensori, ma lo fa culo, ma cosa deve fare con lì per essere cacciato? Ci stai rilaniando, ci stai rilaniando, ma cosa deve fare? Ma poi, sai, supercoppa, però ne vedevo così, guarda il debbie che hanno vinto. Mi sembra di essere tornato indietro nel tempo, eh? Un déjà vu allo scorso campionato, vero? Radu? C'era Radu oggi, no? Ah no, c'era Varela. Ma chi è che cambia la difesa? Chi è che cambia la difesa? Ma chi è che cambia la difesa? Ma come si fa? Ma come si fa? Questo paretta allo stadio a prendere l'acqua al freddo. Siete senza rispetto. Inzaghi, non hai rispetto per i propri tifosi. Inzaghi. Ho sbagliato? Ho sbagliato? Ozzolini, ozzolini ancora a calciporta, guardi il minuto. Go, ozzolini. Ho detto, ragazzi, voglio solo, ozzolini, non dovevamo sbagliare. Nessuno voleva sbagliare, ha sbagliato il minuto. Già ci doveva n'essere una rete nel primo tempo, già doveva restare 1-0 in primo tempo, minimo. Eh, paro, guarda, guarda, che ti devo dire, guarda quanto ti pare, ma intanto la storia è quella, eh. Eh, vero? Che ti ha preso? Addio. Non ti butta giù la finestra, non ti usucitare. Resisti. Oso, ozzolini, 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 ozzolini. Questi cazzo di ampoletani hanno ruotato, coglioni, che continuano a gufare 20 rati di vantaggio, 20 punti. Eccola, anch'io, anch'io sono stato contento, io più di voi, avete capito che vi meritate questo, sì, vi meritate questo, perché la ragazzotta, quella parla, è possibile, bravi, bravi, quando una cosa si merita è giusto, no, no, se dovete giocare così, così che si gioca, bravi, no, no, dobbiamo farvi complimenti, è questo il calcio che mi piace, ciao Alex, mamma mia quanto fa, a caso, D'Ambrosio fa un passaggio verticale a caso, prendo in conto tempo Barella, palla riconquistata da Bologna, un passaggio verticale lo si unì completamente da solo, tra la cera e il bastone che non so come era, ma il porto è sì, normale, è logico, bello, bello, ci sta, ci sta tutto, ci sta tutto, bello, ci sta sì, sono anche contento, ma anche noi, anche io, noi, tutti, bello, ci sta, e ci sta, ve l'ho meritato, bello, 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 è giusto, ha giocato sul cuore, è giusto, va veri, infatti, e vai con il sugo della Bolognese, eh, con il Terlini, grandi ragazzi, oh, che bello, allora, ci avete fatto divertire, era tanto, guardate, è stato un déjà vu, al passato, no, si è troppo fuori, si è troppo fuori, tanto mi sei agganciato, intanto, no, intanto vincite la Champions League, ragazzi, ma che mi cambia, no, giusto, ciao